Ben trovati su canale 81 Lazio con il nostro consueto appuntamento con le ultime notizie della nostra regione. Iniziamo dalla cronaca perché ieri si è verificata una lite tra due gruppi di ragazzini in pieno giorno nel quartiere Trastevere a Roma. Poco prima delle 14 ci sono stati dei veri e propri tafferugli tra due gruppi all'incrocio tra Viale Trastevere e Via delle Fratte. Secondo il racconto di alcuni testimoni diversi ragazzi che poi si sono dileguati hanno sradicato San Pietrini per poi lanciarseli. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Un ragazzo minorene è stato visitato dal 118 sul posto ma ha rifiutato il successivo accompagnamento in ospedale. Sul posto anche la polizia. Parliamo ora dell'allerta maltempo emanata per oggi. Allerta arancione per forte evento. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un'ordinanza ha disposto la chiusura di giardini, parchi e cimiteri. Del municipio X l'atto prevede oltre al divieto di accesso per attività ludico-ricreative e alle aree indicate anche quello di svolgimento all'aperto delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine grado compresi i nidi presenti nel territorio municipale. Proseguiranno normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all'interno degli istituti scolastici. Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti di prudenza in prossimità di aree verdi, nei pressi di strutture mobili e lungo le zone costiere. Parliamo ora della svastica comparsa a Viterbo contro la nuova segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, apparsa nel capoluogo viterbese. Schlein, la tua faccia è già un magro destino, si legge. La scritta è stata poi rimossa, non appena segnalata ieri dalla Digos, ha detto la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, che commenta un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio. Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano presto individuare l'autore di tale indegno gesto. Parliamo ora della regione Lazio. Iniziava a serpeggiare un certo nervosismo ieri dopo l'ennesimo incontro tra gli alleati di centrodestra che dovevano vedersi all'ora di pranzo per chiudere sulla giunta, se non fosse che l'appuntamento è saltato. Si sono sentiti al telefono, ma la nota diffusa in serata dai coordinatori regionali di Lega e Forza Italia, Claudio Diurigon e Claudio Fazzone, faceva intendere che restano ancora alcune questioni appese. Al momento non c'è stata alcuna definizione della squadra di governo, siamo fiduciosi di trovare nelle prossime ore il giusto equilibrio insieme al Presidente Rocca con l'obiettivo di rispondere ai cittadini che ci hanno chiamati a governare questa autorevole istituzione attraverso un ampio consenso. Parliamo ora di un'ordinanza del Sindaco di Roma Gualtieri che ha ristretto ulteriormente la platea di veicoli che possono transitare all'interno della cosiddetta e allargata fascia verde vietando la circolazione alle auto a benzina e diesel pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2 e soprattutto ai diesel Euro 3. Limitazioni che per forza di cose rendono sempre più complesso circolare su strada con vetture che hanno sulle spalle più di vent'anni, d'epoca o storiche. La richiesta di Dero che arriva pressante dagli appassionati di veicoli storici di cui si è fatta portavoce a Roma la scuderia romana La Tartaruga, club associato Asci che ha presentato il ricorso sia al Tar sia al Presidente della Repubblica per chiedere che le misure, non solo quelle comunali ma anche quelle regionali, vengano riviste. Chiudiamo con il calcio, ieri giornata di gara, di match per la Roma, la Roma batte la Real Sociedade 2 a 0 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, al tredicesimo i giallorossi trovano la rete del vantaggio con El Sharawi al termine di una bella azione di contropiede su assist di Abram. Gli spagnoli vanno vicini al pari con il giapponese Kubo che colpisce il palo. Nella ripresa Pellegrini si scontra con Zubeldì e si procura una profonda ferita alla testa, Murigno lo rimanda negli spogliatoi, esce pure Abram ed entra Belotti che colpisce una traversa. Nel finale Kubo la fa 2 a 0 di testa con un imperioso stacco su corner di Dybala. La gara di ritorno è in programma il 16 marzo a San Sebastián. Questa per oggi è la nostra ultima notizia, grazie come sempre per la vostra attenzione e vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti con l'informazione.